Guardate cosa ho moleggiato. È una Tartan Prenzer del 2015. Hai detto Tartan, caro? Sì, la Tartan è la onda dell'Albania. Però questa piccolina è davvero fantastica. Usa la tecnologia albanese più recente, guardate. Plug-in hybrid. Oh, wow, è ecologica, bene. Quando finiremo il carburante, sarà sufficiente accostare e collegarci con questa, credo. Mai vista una spina come quella? Questa cosa è incredibile. Chiudi lo sportello. Che cosa? Ha un sensore, non ti fa chiudere lo sportello se in mezzo c'è un braccio o una gamba. No, caro, non lo faccio. Ma ho fatto quello del noleggio, avanti. Ok. Fallo! Fallo! Divertente. Fallo! Ok, ecco. Oh mio Dio, scusa! Oh mio Dio! Cavolo, che male! Oh mio Dio, ma perché me l'hai fatto fare? Certo, non avevo attivato il sensore. Ok. Sono un idiota. Fallo ora. No, non ci pensare neanche. Tranquilla, stavolta l'ho attivato. No, non lo faccio di nuovo. Sei una fifona. Bene. Ma perché l'hai fatto? Scherzi?